Amici di Made in Vino, ciao! Siamo qui con l'amico Philo per degustare questo Dulcis, un fiagno di 2011 di Fosso degli Angeli, un vino della campagna da 13 gradi e mezzo e vediamolo. Bellissimo giallo dorato, ha questi riflessi verdolini tipici del fiano e bello consistente, tra i 16 gradi e mezzo li si vedono, li si vedono. Cosa mi dici del naso? Direi frutta bianca, intensa, come la mela verde. Direi che c'è anche della pesca bianca. Pesca bianca, sì, dei millefiori, miele millefiori. Direi una nota strana, molto strana e particolare, che è laggiù in fondo in un angolino e lo chiamerei tartufo bianco. Hai sentito anche te, quindi curioso, ma c'è. Direi che secco ma molto morbido, molto gentile, caldo. Questa nota avvolgente, ti riempie tutta la bocca. Piacevole, gustoso, assolutamente. Da bene a 8-10 gradi e lo potremmo abbinare con? Oggi abbiamo un abbinamento che spacca, si dice. Perfetto. Paccheri, tonno e olive nere. Paccheri, e poi il nostro caro blogger Valle Mazzola farà un abbinamento e proporrà un abbinamento davvero ideale. Amici di Made in Vino, ricordate di andare su madeinvino.com con 19,90 euro al mese e diventerete sommelier. C'è, ciao! Grazie a tutti!